Un modo differente di intendere il supermercato, unendo la convenienza del mercato rionale, la specializzazione della bottega sotto casa ed un ambiente accogliente dallo stile mediterraneo. Questo è il format proposto da per sempre che ha inaugurato il suo primo punto vendita di Salerno in via Settimemobilio 121. Alla base è un'idea ben precisa quella di rinunciare alle offerte temporanee, quelle pubblicizzate con i classici volantini che riempiono le cassette postali, ed invece offrire una convenienza tra 165 giorni all'anno. Fedeli a questa filosofia per sempre propone banchi in gastronomia del pesce e della carne con personale specializzato ed anche un angolo bar e coloniali dove poter acquistare anche il caffè motta sia macinato che in grani, ad aprire il nuovo supermercato in via Settimemobilio e il gruppo Meda. Questo è un nuovo progetto ideato dalla piattaforma moderna S.p.A. con Nicola Massomartino. Noi puntiamo molto di più sulla qualità. In sostanza il messaggio è che i prezzi sono convenienti tutto l'anno. Sì, sì, sì. Il messaggio è questo qua. I prezzi sono convenienti tutto l'anno, la qualità è di livello superiore, come potete ben vedere, dai banchi freschi, partendo dalla carne, prodotto italiano, pescheria, pescato fresco, salumi, formaggio, ortofrutta. Siamo tutti prodotti di prima linea, freschi, forniti ogni giorno ad un prezzo conveniente. Questa è l'idea del punto vendita per sempre. Accogliente la formula è intelligente e devo dare atto alla famiglia Massomartino, Enzo Bove, Carmine del Regno, della lungimiranza imprenditoriale che hanno. Credo che stiano marcando un atteggiamento nei riguardi della distribuzione, della grande distribuzione, che non perde in umanità, ma anzi, come lei diceva, si propone come momento di prossimità. Il take away e altre cose di grande utilità per i cittadini credo che facciano la differenza. Questo è un trend positivo che da alcuni mesi sta portando la città di Salerno. Stanno aprendo nuove attività. Abbiamo iniziato sul corso Vittorio Emanuele, Via Vela, con le attività commerciali gestite da salernitani. Continuiamo con questo punto a settimo immobilio gestita da salernitani. Sono convinto che questa nuova scommessa sicuramente sarà vincente. Un punto vendita che ha visto sposare il gruppo Meda con il marchio ideato dalla famiglia Mastro Martino. Sicuramente è una nuova tendenza questa. Uno per rispetto per l'ambiente perché poi tutta questa carta onestamente crea delle problematiche a parte al cliente consumatore ma anche proprio alla stessa città. Il format è voluto e ricercato perché possa dare un impulso e un contributo sempre verso il consumatore, il servizio massimo che noi vorremmo tendere, come sempre.